quella curva tagliala ok vai un altro dai ragazzi ora siete online vai più rapido che puoi poi devo tagliare anche l'audio vai si vai ora rapida così le mani rilassate molto meglio di prima vai ok vai si poi prendiamo il tempo ragazzi ancora due volte e poi prendiamo il tempo buona restirala no no non la metto eh lo so però è rapidissimo cioè se gli insegni le cose vabbè è più grande di tutti ok tirala vai anche Luca se la cava sì le vorrei dire che buona è una specie di pianoforte ragazzi vai Andrea non c'è bisogno di tirare sulle ginocchia così eh in questo esercizio in altri sì ne voglio tre di ognuna così scelgo la migliore e la monto vai vai va bene ok vai vai no fra un po' prendo il tempo va bene meglio vai si va bene va bene fregatene si eh dovevi stirarla prima eh ok